farò un brevissimo riassunto e poi lascerò subito la parola a Stefano. Allora nell'ultimo incontro che abbiamo avuto con Stefano ci siamo soffermati su una domanda molto importante che è quella se fosse possibile vedere Dio muovendoci attraverso le scritture ed analizzando vari passi tra il primo e il secondo testamento siamo giunti ad una risposta che di seguito scopriremo. Partiamo col dire che le apparizioni di Dio menzionate nella Bibbia vengono chiamate teofanie. Nelle lezioni precedenti abbiamo compreso come il concetto dell'apparizione di Dio è ampiamente considerato nella cultura ebraica facendo particolare riferimento alla Torah e ai patriarchi. Diverse sono le teorie a tal proposito. Una parte di studiosi anche illustri rabbini sostengono che non è possibile vedere Dio poiché egli non ha un corpo. Facendo particolare leva sul verso di Deuteronomio 4.12. In questo passo viene detto che il popolo di Israele non vide Dio ma udì solo il suono delle sue parole. Questa precisazione però non ci dice che Mosè non lo vide poiché ricordiamoci che lui fu l'unico che poteva salire al monte mentre il popolo aspettava i piedi di esso. Altri passi come Esodo 33 versetti 20-23 ci dicono invece chiaramente che Mosè in questo caso vide Dio. Nel secondo testamento ad esempio nei versi in primo di Modio 6.13 e primo Giovanni 4.12.20 ci viene invece detto che nessun uomo può vedere né ha mai visto Dio. In altri versi della Genesi dove leggiamo le diverse esperienze fatte da Abramo notiamo al contrario come egli vide Dio in più occasioni poiché il verbo usato è apparve. Inteso quindi in senso visibile. Nell'episodio di Mamre Abramo vide tre uomini. Qui Dio gli apparve in forma umana. Continuando ad esplorare le scritture nel capitolo di Genesi 22 dove si narra di Abramo chiamato a sacrificare Isacco all'atto prima del sacrificio un angelo lo ferma. Nelle nostre traduzioni troviamo esattamente scritto l'angelo di Dio. Nel testo ebraico invece troviamo scritto angelo Dio. Quindi in questo caso Dio si manifesta da Abramo in forma angelica. Lo capiamo bene nel verso 16 quando egli dice e non mi hai rifiutato tuo figlio. L'angelo in questione parla in prima persona. In tutto il primo testamento leggiamo diversi episodi dove Dio appare a Mosè e ai patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe in forma visibile. In un altro episodio importante leggiamo di Giacobbe che lotta con un uomo e alla fine della lotta l'uomo si rivolge a Giacobbe dicendo Il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Anche in questa occasione Dio si rende visibile a Giacobbe. Infatti quel luogo viene chiamato Peniel che significa letteralmente faccia di Dio. I versi fin qui citati sembrano muoversi in un'apparente contraddizione. Alcuni uomini come patriarchi hanno visto Dio ma altri passi ci dicono che nessun uomo può vedere Dio. La chiave di lettura sta in un fatto molto importante che quando si fa riferimento al fatto che nessun uomo può vedere Dio si fa riferimento alla gloria di Dio. Quindi nessun uomo può vedere la gloria di Dio e vivere proprio come viene detto nel passo in Esodo 33 quando Mosè chiede a Dio di vedere la sua gloria e lui gli risponde nessun uomo può vedere la mia gloria, il mio volto è vivere. Per questo motivo Dio si è dovuto incarnare nella persona di Cristo Gesù in modo da poter rivelare lì Dio invisibile a noi uomini. Egli stesso infatti afferma chi ha visto me ha visto il padre. Quindi terminando possiamo dire che Dio è possibile vederlo nelle sue diverse forme, uomo o angelo che sia, ma non nella sua gloria, poiché nessun uomo è abilitato a tanta grandezza. Fatto questo breve riassunto io passo subito la parola a Stefano. Come sempre vi chiedo gentilmente di disattivare i microfoni così che non ci siano interferenze. A te Stefano. Grazie Vera, grazie della tua introduzione. Come sempre molto attinente a quello che ho insegnato, alle mie note, al mio PowerPoint. Quindi grazie, grazie, grazie. Ci troviamo all'ultima puntata di questo studio, molto dettagliato. Ovviamente magari sarà opportuno per alcuni di voi ritornare e riguardare le puntate precedenti in modo da avere più chiarezza degli elementi che sono stati trattati. Oggi abbiamo diverso materiale da analizzare. La mia idea era o quella di tagliare alcune parti, oppure di dare delle nozioni generali senza entrare troppo in profondità in alcuni dettagli, dove ovviamente ricordo questa... È frutto della mia tesi di laurea alla London School of Theology, dove appunto ho messo insieme... Non ho inventato niente, ho semplicemente messo insieme tutto il materiale disponibile per quanto riguarda il nome di Dio e i titoli di Dio e la traiettoria che viene utilizzata nel Primo Testamento e successivamente nel Nuovo Testamento. Il discorso è che per poter fare questo paragone dobbiamo iniziare con quella che viene chiamata comunemente la versione del 70 o la Septuaginta. La Septuaginta è la versione di quello che noi definiamo Antico Testamento, quindi la Tanakh, in greco. Ci troviamo in un momento particolare del popolo di Israele. Il cosiddetto periodo intertestamentario, che è semplicemente un parolone per dire 300 anni di storia tra il libro di Malachia, quindi l'ultimo del canone cristiano e dell'ordine cristiano, perché sapete benissimo che l'ordine della Bibbia ebraica è differente da quello cristiano, però parliamo dell'ultimo profeta che abbiamo nel nostro Antico Testamento e del Vangelo di Matteo che è il primo libro del Nuovo Testamento. Per noi è semplicemente girare una pagina, in realtà c'è tutto il regno greco che non viene menzionato, perché noi finiamo con i persiani, con il libro di Esther, con il libro di Neemia, quella è la parte storica, il ritorno del popolo di Israele dalla cattività babilonese, e poi ci spostiamo nel Vangelo di Matteo e abbiamo i Romani, abbiamo Cesare, abbiamo Cesare Augusto, abbiamo Tiberius, e tutta questa gente qua. E quindi automaticamente ci viene da dire che cosa è successo durante il tempo dei Greci, che cosa è successo, perché anche se la Bibbia non ci dice nulla, abbiamo i libri storici che ci danno delle informazioni. E quindi abbiamo la salita al regno di Filippo, che era il re Macedone, e di suo figlio Alessandro, Alessandro Magno, Alexander the Great, che conquista tutta la parte dell'impero persiano, con le famosissime guerre tra greci e persiani, dove sono stati raccontati tantissimi aneddoti e tantissime leggende, come la storia di Maratona, la battaglia di Maratona, dal quale oggi noi abbiamo i 42 chilometri di Maratona, perché si narra la leggenda che appunto una persona avesse corso per portare la notizia in Grecia della vittoria dei Greci contro i persiani, era talmente contento e felice che ha corso 42 chilometri per portare la notizia in Grecia, probabilmente ad Atene, e una volta che arriva ad Atene e comunica la vittoria, muore, e muore per i 42 chilometri corsi tutto ad un fiato. Questa è una leggenda, non sappiamo se è vera o se non è vera, però inizia questa cultura greca, successivamente verrà chiamata greco-romana, però qua la Grecia conquista il territorio, ed è importante, perché questa piccola lezione di storia? Perché è importante per comprendere anche la cultura ellenista del popolo di Israele, perché proprio durante l'impero greco c'è la cosiddetta diaspora degli ebrei, che sono liberi di spostarsi in tutta la zona dell'impero greco, e così fanno, ed è però un problema perché si dividerà tra gli ebrei che rimangono in Israele e a Gerusalemme con gli ebrei che invece si sono trasferiti altrove e hanno fatto sì che inserendosi nella cultura non più l'ebraico ma il greco diventasse la lingua corrente delle nuove generazioni. Partendo da questo presupposto, noi impariamo, e lo vediamo anche negli Atti degli Apostoli, quando andiamo a vedere ad esempio Atti capitolo 6, la scelta dei diaconi, dalla quale poi viene anche Stefano, Filippo, Nicola, sono tutti nomi greci, o comunque di etimologia greca. Infatti il mio nome Stefano vuol dire coronato, però non è una corona di un re, ma è la corona di chi vince un'olimpiade, di chi vince una corsa, gli viene donata, diciamo, una corona, la corona di alloro come premio, e viene chiamata appunto Stefanos. Questo è un altro aspetto importante perché vediamo appunto negli Atti degli Apostoli questa separazione tra gli ellenisti e i giudaizzanti, diciamo, e quindi è importante comprendere questa cultura ellenista. Nella cultura ellenista succedeva che gli ebrei che vivevano fuori da Israele parlassero nella lingua comune, quindi in greco, ma che mantenessero l'ebraico per quanto riguarda la parte religiosa. Ciò nonostante si è pensato di tradurre, proprio perché la lingua corrente dell'impero era il greco, di tradurre l'Antico Testamento alla Tanakh in greco. È da lì che abbiamo finalmente la versione dei settanta. Si chiama versione dei settanta per diversi motivi. Abbiamo questa lettera che potete guardare, potete metterla su Google, leggere di cosa si tratta, la lettera di Aristea, dove appunto si racconta come la prima versione dei settanta viene stipulata. La leggenda narra di questi settanta barra settantadue scrivi che si rinchiudono in settanta stanze differenti e che iniziano a tradurre dall'ebraico al greco i primi cinque libri della Bibbia, il Pentateuco, la Torà, e che quando escono, che hanno finito, mettono a paragone tutte e settanta le versioni e sono tutte uguali. Non c'è uno sbaglio, non c'è un'interpretazione differente, sono tutte uguali. E questo, secondo la leggenda, appunto anche la lettera di Aristea, porta la conferma che quella doveva essere la Bibbia ufficiale in greco. Tanto che ancora oggi, o da quel momento in avanti fino ad oggi, la versione dei settanta è utilizzata nel mondo cristiano-ortodosso come, diciamo, testo originale proprio per questo motivo. Quando parliamo della versione dei settanta, non pensiamo che tutto l'Antico Testamento sia stato scritto in greco immediatamente, ma la prima a essere stata tradotta è la Torà, poi successivamente sono state fatte delle aggiunte, sono stati poi cercato di trovare una quadra per quanto riguarda la versione greca. La cosa importante è che quando parliamo della versione dei settanta, non pensiamo, non dobbiamo pensare che ci sia solo ed esclusivamente una versione, anzi, nel tempo abbiamo appunto queste tre versioni che sono le più famose, che appunto se vi trovate davanti a un libro di storia, di storia biblica o del canone biblico, li troverete abbreviate, tipo il codice Vaticanus con un B, il codice Sinauticus con una S e il codice Alexandrinus con una B. Ve le ho messe là, non ho tempo di entrare troppo nel dettaglio, perché l'obiettivo di questa ultima lezione è un altro. E ve lo ripeto, l'obiettivo è, ora che sappiamo qual è il nome di Dio e i titoli che vengono utilizzati nella Torà, dobbiamo vedere come sono stati traslitterati. Quando parliamo di due alfabeti che usano due caratteri differenti, non si parla di traduzione, ma di traslitterazione, perché abbiamo due fonti, diciamo, basi differenti, come se andassimo a prendere una parola in cinese o in giapponese che usa un altro alfabeto con degli altri caratteri e lo portassimo in italiano, si chiama traslitterazione, non si chiama traduzione. Invece traduzione è quando tu hai una parola in inglese e la traduci in italiano. Si usa lo stesso alfabeto e c'è una traduzione. Questo è anche importante per quando mi sentite parlare di traslitterazione. Ed l'idea è come questi nomi sono stati traslitterati in greco. E quindi ricordatevi, la versione dei 70 non ha il Nuovo Testamento. Ok? La versione dei 70 è Antico Testamento in greco. Quindi abbiamo a questo punto Antico Testamento in ebraico, abbiamo Antico Testamento in greco da paragonare e vediamo come gli scrittori, gli autori, sappiamo che è ispirato allo Spirito Santo, fatemi usare la parola autori, comunque le persone che hanno scritto il Nuovo Testamento che avevano a disposizione la versione dei 70 perché qui stiamo parlando dell'Impero Greco e l'Impero Greco è prima, sono 200-300 anni prima di Yeshua perché Yeshua nasce nell'Impero Romano e l'Impero Romano arriva dopo l'Impero Greco e quindi tutti gli scrittori, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Pietro, Paolo, hanno tutti a disposizione la versione dei 70. Molto probabilmente in originale sono sempre stati scritti in greco, quindi da vedere come questo greco della Septuaginta, quindi della 70, viene utilizzato nel Nuovo Testamento. e oggi non avrò tempo di vederle tutte ma vedremo le cose più importanti da analizzare insieme per vedere come e perché Yeshua è il Dio di Israele seguendo il nome di Dio e i titoli che Dio nella Torah, ok, titoli che vengono attribuiti a Dio, che Dio attribuisce a se stesso in ebraico, traslitterato nella 70 in greco, e utilizzato lo stesso termine in greco per il Nuovo Testamento. Questo è l'obiettivo. Quindi, iniziamo con El Elohim e con il tetagramma di Dio, che in greco viene tradotto per ben 590 volte con Theos, quindi la parola Elohim viene tradotto per 590 volte con Theos, e qua stiamo parlando della Septuaginta, non stiamo parlando del Nuovo Testamento ancora. Quindi, gli scribi che traducono l'ebraico della Torah e dell'Antico Testamento nella 70, nella versione dei 70, ogni 500 va per 590 volte che trovano la parola Elohim, la traducono con Theos. Quando vedono il tetagramma per 983 volte, quasi mille volte, utilizzano la parola Kurios, e sembra che siano interscambiabili, che per la versione dei 70 sia la stessa cosa, chiamare Dio Elohim o chiamare Dio Theos o chiamare Dio Kurios, sembra per la versione dei 70 che non ci sia grande differenza. In realtà, per un lettore più attento, e ripeto, questa informazione che vi sto dando adesso è un'informazione che ho letto sui libri e non ho fatto la ricerca io per due motivi. Uno, perché io sono specializzato in ebraico e non in greco, quindi, nonostante abbia fatto un'introduzione del greco Koine, che è il greco del Nuovo Testamento, non ho la capacità di entrare troppo in dettaglio, in profondità nel greco, perché non è il mio campo. Il mio campo è più Antico Testamento e più ebraico, però per, diciamo, per questo tipo di lezione posso fare alcuni collegamenti, avendo appunto una base introduttiva del greco biblico. Quindi, per un lettore attento delle lingue originali, sembrerebbe che ogni volta che l'Antico Testamento, che il Primo Testamento fa riferimento al Dio creatore, si utilizzi la parola Theos, che è una parola un pochettino più generale. Infatti, la parola Theos verrà utilizzata anche per altre divinità, così come Elohim. Vi ricordate Elohim, seguito dal verbo al singolare, fa sempre riferimento al Dio di Israele, mentre quando è seguito da un pronome plurale o da un verbo al plurale, fa riferimento ad altre divinità. La stessa cosa per Theos. Mentre il Dio, quando si rappresenta, o quando la frase ci porta a vedere il collegamento, la relazione di Dio verso Israele, la parola cambia, non è Theos, ma viene tradotto con Curios, che vedremo dopo che cosa vuol dire. Semplicemente la differenza, ve lo posso dire anche adesso, Theos è Dio e Curios è Signore. In italiano. Poi ci muoviamo nel collegare la parola El Elyon con Theos e Spistos. Vi ricordate che El Elyon appunto è il Most High, dell'Altissimo, Dio all'Altissimo, e quindi come viene tradotto questo? Esattamente nella stessa maniera. Possiamo vedere questi due versi che leggerò io per questione di tempo in Deuteronomio 32 verso 8 e 9. Quando l'Altissimo diede alle nazioni la loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli, tenendo conto del numero dei figli di Israele, poiché la parte del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la sua porzione, la sua eredità. In questo contesto viene utilizzata proprio la parola Altissimo che è El Elyon e viene tradotto con Theos e Spistos e fa proprio riferimento al Dio che crea le nazioni e che dà alle nazioni la propria eredità, ma che ha una relazione speciale con Israele. L'altro verso è in secondo Samuele, secondo Samuele capitolo 22 nel verso 14 Il Signore tuonò dai cieli, l'Altissimo fece udire la sua voce e di nuovo fa riferimento alla consegna della legge di Dio e dell'esperienza di Mosè e fa riferimento appunto all'Altissimo. Sappiamo benissimo, perché abbiamo letto la scorsa settimana in Esodo dal capitolo 3 al capitolo 6, chi è che ha parlato a Mosè, chi è che ha dato la legge e sappiamo benissimo che si è presentato con il suo proprio nome, quindi col tetagramma di Dio e in questo verso ci viene spiegato e la Settanta conferma che l'Altissimo, che è l'Elyon, non è altro che Adonai e con il suo tetagramma. Di nuovo il contesto di monoteismo e enoteismo non è complicato per i greci e per la cultura greca del Panteon perché avendo tantissime divinità come le avevano il popolo mesopotamico, come i sumeri, come ce l'avevano gli egiziani, come ce l'avevano i babilonesi, gli assiri, automaticamente i greci, essendo una religione politeista, nel momento in cui viene utilizzato questa espressione del Dio Altissimo viene sempre abbracciata nel contesto che il Dio di questo popolo sembrerebbe un Dio più alto, un Dio più forte, un Dio più potente. Ora, nella cultura ellenista è l'Elyon interessante, questo dal punto di vista archeologico, sono state trovate in Grecia, in Antica Grecia, alcune tavole che sembrerebbe vincere la presenza di l'Elyon appartenente a un gruppo monoteista e quindi non faceva parte del Panteon greco. E questo è interessante perché l'archeologia oggi ci dice che l'Elyon non era un Dio adorato tra i greci, non faceva parte del Panteon, non faceva parte della cultura, della lista di tutte quelle divinità adorate nel tempo, ma che era separato da tutte queste divinità del Panteon perché appartenente a un gruppo monoteista. Quindi questa scoperta archeologica ci porta a pensare che esisteva nell'impero greco un gruppo monoteista che non credeva in diverse divinità, ma in uno solo, e che questo gruppo chiamava la propria divinità l'Elyon. E questo è davvero interessante per noi credenti sapendo che l'Elyon è uno dei nomi che viene utilizzato nella Bibbia, non soltanto nell'Antico Testamento, ma anche nella versione dei Settanta. E lo vedremo poi successivamente cosa succede nel Nuovo Testamento. Quando ci muoviamo invece con El Shaddai, che se vi ricordate è un nome che Dio dà a se stesso, un titolo che Dio dà a se stesso, viene utilizzata questa parola in greco pantokrator che appunto vuol dire krator è la parola di una delle parole greche che significa potenza, potere e pan che vuol dire tutto. Ad esempio la parola panteista chi crede nel panteismo crede che ogni cosa sia una divinità tipo l'aria è una divinità, l'albero è una divinità, il ventolo è una divinità e così via. La parola pantokrator in greco, la scelta che viene fatta dagli iscrivi del 70 della seppoginta purtroppo perde il significato ebraico. Se vi ricordate avevamo parlato di come Dio si manifesta ad Abramo attraverso la promessa la promessa di un figlio quando Abramo ha 99 anni e Saran ha 90 ed è impossibile per loro avere figli ma la promessa arriva da El Shaddai con questa etimologia che sembra voler dire seni, montagna quindi è un Dio della fertilità un Dio che porta ciò che è sterile a portare frutto tutta questa etimologia ebraica la perdiamo con la traslitterazione o l'utilizzo di Pantocrator che mantiene semplicemente il senso più generale della parola El Shaddai quindi onnipotente oggi noi la tradurremmo onnipotente lo troviamo questa parola in Genesi 17 1 lo troviamo in Esodo 3 13 interessante la scelta preferita dai traduttori nel libro di Giobbe se vi ricordate il libro di Giobbe è uno dei libri è il libro più antico secondo l'archeologia biblica che è stato scritto quindi come anzianità dei libri non viene prima la Genesi ma dovrebbe venire prima il libro di Giobbe questo soprattutto lo si evince dall'utilizzo dell'ebraico infatti il libro di Giobbe è uno dei libri più difficili ancora oggi per gli studiosi da leggere perché utilizza un ebraico molto antico e per questo motivo il libro di Giobbe è considerato il libro più antico nella Bibbia è stato scritto nella maniera più diciamo più tempo addietro probabilmente Giobbe ha vissuto ci sono diverse teorie sicuramente prima di Mosè e quindi qualora Mosè fosse il primo scrittore del Pentateuco della Torah il libro di Giobbe narra eventi di un personaggio di personaggi e di creature strane che sono addirittura alcune persone dicono prima del diluvio ora stiamo parlando di qualcosa che va al di là della nostra conoscenza molti creazionisti utilizzano il libro di Giobbe parlando dei dinosauri parlando di di mostri marini e altre situazioni varie discorso che mi interessa tantissimo che mi piace tantissimo ma che non posso approfondire oggi magari poi facciamo una lezione solo su quello ma siamo sicuri che il libro di Giobbe sia sicuramente il libro storicamente parlando più antico che abbiamo nel nostro canone biblico l'ultima cosa è uno dei termini che viene utilizzato è Adonai Zebaot che appunto significa Dio degli eserciti e quando diciamo il titolo più usato dagli scrittori della 70 nel momento in cui si trovano davanti a Zebaot quindi Adonai Zebaot è Pantocrator quindi questa parola Pantocrator viene utilizzato sia per tradurre El Shaddai che per tradurre il Dio degli eserciti il Signore degli eserciti ora per me è impossibile entrare nella mente di chi ha scritto la 70 o di chi ha utilizzato chi ha tradotto la 70 però automaticamente vedendo il carattere di Zebaot come un carattere di un combattente di un Dio degli eserciti che combatte e vedere anche il carattere di El Shaddai entrambi hanno questa caratteristica di essere invincibili ad esempio la scelta di utilizzare Pantocrator per Zebaot è perché è il Dio degli eserciti ed è il Dio invincibile è onnipotente è impossibile da sconfiggere quindi nella cultura quando quando il Dio Pantocrator si manifesta ed è appartenente a questo popolo automaticamente questo popolo è impossibile da battere impossibile da sconfiggere e quindi il concetto di onnipotenza non avviene soltanto nel performare miracoli come avviene con Abramo e con Sara ma allo stesso tempo nella cultura di conquista il popolo di Israele è un popolo che si sta formando è un popolo che andrà a Canaan un popolo che spazzerà via la popolazione cananea e quindi automaticamente ha bisogno di avere un Dio che è invincibile e Pantocrator sposa perfettamente l'idea che il popolo di Israele ha questo Dio Dio Zebaot che è impossibile da sconfiggere e quindi lo vediamo ancora oggi la prova del popolo di Israele che nonostante tutto quello che sta succedendo continua a essere il popolo di Dio dal tempo di Abramo Isacco e Giacobbe fino ad arrivare ai giorni d'oggi Dio è El Shaddai è Pantocrator è onnipotente e quindi il popolo che gli appartiene è un popolo che non può essere distrutto quando ci muoviamo e queste sono appunto abbiamo visto come El Elohim e Adonai vengono tradotte dalla settanta con Teos e Curios come El Elyon viene tradotto dai settanta con Teos e Spistos e come El Shaddai viene tradotto con Pantocrator e adesso ci indirizziamo verso la fine dello studio guardando appunto come questi termini dalla Torah alla settanta vengono utilizzati per Yeshua nel Nuovo Testamento ed è qua che tutte le tre puntate precedenti hanno l'obiettivo di arrivare a questo punto quindi ci troviamo davanti a un Nuovo Testamento scritto in greco Koine che è il greco utilizzato nella versione dei settanta e andiamo a vedere come la parola Teos viene utilizzata per Yeshua iniziamo con Romani capitolo 9 verso 5 dove appunto leggiamo magari inizio prima perché io stesso vorrei essere anatema separato da Cristo per amore dei miei fratelli miei parenti secondo la carne cioè gli israeliti ai quali appartengono l'adozione la gloria i patti la legislazione il servizio sacro le promesse ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno Amen quindi qua è Paolo ai Romani che fa tutto il suo discorso tra i gentili e i giudei e dice dalla quale è arrivato il Cristo che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno quindi automaticamente in questo caso avremo tantissimi casi dove Teos fa riferimento al padre ma in questi in questi versi è chiaro come lo scrittore del Nuovo Testamento in greco utilizza Teos associato al figlio associato al Cristo associato a Yeshua andiamo avanti Vangelo di Giovanni capitolo 1 verso 1 nel principio era la parola la parola era con Dio e la parola era Dio sappiamo benissimo che la parola che qua in greco è logos non fa riferimento al padre perché se andiamo avanti a leggere i versi sappiamo che Giovanni sta facendo l'introduzione di Yeshua il soggetto di Giovanni capitolo 1 è Yeshua e sappiamo che Yeshua è il logos di Dio ma non è soltanto il logos di Dio ma è Dio stesso questo era chiaro per gli scrittori del Nuovo Testamento nello stesso capitolo al verso 18 leggiamo nessuno ha mai visto Dio l'unigenito Dio che è nel seno del padre e quello che l'ha fatto conoscere e quindi in questo contesto di Nuovo Teos e Yeshua vengono associati ma ci muoviamo poi sempre nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20 verso 28 e la storia di Tommaso Tommaso inizialmente non crede gli altri discepoli hanno visto e altri apostoli hanno visto Yeshua risorto lui non ci crede e dice io se non vedo le sue mani e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi Yeshua appare gli dice di toccarlo di porgere la sua mano di vedere che è veramente lui e cosa dice Tommaso al verso 28 del capitolo 20 dice Signore mio e Dio mio questo questa è l'esperienza più grande che abbiamo uno dei diversi più grandi maggiori che abbiamo proprio sulla divinità di Yeshua per quanto riguarda l'utilizzo della parola Teos perché viene proprio utilizzata la parola Teos che come abbiamo visto faceva riferimento solo ed esclusivamente al Dio di Israele mentre ci muoviamo da Giovanni alla lettera di Giovanni nella prima lettera di Giovanni al capitolo 5 al verso 20 è scritto sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero e noi siamo in colui che è il vero cioè nel suo figlio Gesù Cristo e poi dice egli ha finito la frase con Gesù Cristo giusto? Egli è il vero Dio è la vita è congiunzione è la vita eterna quindi anche questo verso di Giovanni ci spiega che non è una rappresentazione di Dio una forma di Dio ma che è Dio stesso utilizzando Teos uno dei versi che non tutti conoscono è appunto nella lettera di Tito al capitolo 2 verso 13 verso la fine che dice appunto aspettando la beata speranza è l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù quindi Tito la lettera a Tito porta questo quest'altra grande dichiarazione non dice l'apparizione del nostro del nostro Salvatore è l'apparizione di Dio ma dice dell'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo cioè non non fa differenza e utilizza la parola Teos quando ci muoviamo invece sul l'utilizzo di Kirios di Curios da quindi come Yeshua viene attribuita la parola Curios viene utilizzato per ben 176 volte nel Nuovo Testamento non tutte per Yeshua ovviamente viene molto spesso utilizzato per gli uomini per essere umani ma ascoltate bene questa traiettoria tra il Vangelo di Matteo e Deuteronomio nel Vangelo di Matteo capitolo 4 al verso 7 quindi capitolo 4 di Matteo così come il capitolo 4 di Luca spiega la tentazione ci racconta la tentazione di Yeshua quindi dopo il battesimo lo Spirito Santo lo porta nel deserto ed è lì che gli appare Satana e il diavolo lo tenta a un certo punto Yeshua risponde nel verso 7 e dice Gesù gli rispose e altri sì scritto non tentare il Signore Dio tuo sappiamo benissimo che è una quotazione dell'Antico Testamento ma perché Yeshua sta utilizzando esattamente quello che leggiamo in Deuteronomio 6 in Deuteronomio 6 verso 16 leggiamo non tenterete il Signore il vostro Dio come lo tentaste a massa quindi abbiamo la tentazione di Yeshua nel Vangelo di Matteo e la tentazione di Dio che il popolo di Dio stava tentando Dio stesso la combinazione l'interpretazione e la traiettoria che abbiamo tra i due Vangeli è è un'equazione matematica nel nel primo Testamento il popolo di Dio ha tentato Dio così come Satana ha tentato Dio nel Nuovo Testamento e Dieneut questo non è soltanto una cosa logica da dedurre ma anche l'utilizzo delle parole tra la 70 e l'utilizzo delle parole nel Nuovo Testamento essendo Curios fa riferimento a Dio di Israele e Yeshua nel Nuovo Testamento la stessa cosa accade con il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli che appunto la festa di Pentecoste e l'ascesa dello Spirito Santo al verso 21 del capitolo 2 Pietro e Pietro che parla e dice avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato ora questo verso non è un verso del Nuovo Testamento noi lo citiamo come verso del Nuovo Testamento noi lo citiamo come se Pietro qua stesse dicendo guardate che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato io potrei farvi la domanda ok il nome del Signore qual è il nome del Signore nel nome di chi noi siamo salvati e voi automaticamente da buon cristiani direte Yeshua beh esattamente il punto che Pietro sta facendo ma è un riferimento al libro di Gioele al profeta Gioele dove Gesù non esisteva Yeshua non esisteva noi lo sappiamo perché oggi viviamo nel ventunesimo secolo ma Gioele non sta facendo riferimento a Yeshua sicuramente stava facendo riferimento al Dio di Israele chiunque sarà chiunque avrà invocato il nome del vero Dio del Dio di Israele quindi quindi non un Dio pagano ma il Dio creatore del cielo la terra sarà salvato quasi per dire chi entrerà a far parte di Israele potrà essere salvato chi abbraccerà il Dio di Israele potrà essere salvato ma qui abbiamo l'applicazione non di Stefano non di John MacArthur no della Tindale Bible no del pastore Paul ma di Pietro che nell'ispirazione dello Spirito Santo scrivendo applicando questa questo verso di Gioele negli atti degli apostoli automaticamente abbiamo Yeshua che viene attribuito il nome che deve essere invocato per essere salvato e abbiamo un'altra equazione tra i due testamenti così come le persone invocheranno il nome di Dio di Israele per essere salvato allo stesso tempo il nome di Yeshua porterà salvezza chiunque invoca il suo nome uno dei passaggi più belli su questo contesto è nella lettera di Giuda nella lettera di Giuda che è il penultimo libro del nostro canone del nuovo testamento prima dell'apocalisse noi leggiamo nel verso 4 perché si sono infiltrati tra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritto a questa condanna empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone Signore Gesù Cristo quindi il verso 4 finisce con Gesù Cristo finisce con Yeshua finisce con il soggetto e lui continua con questo soggetto verso 5 al 7 e dice ora voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo che il Signore l'ha chiamato prima Signore Gesù Cristo quindi il Signore lo stesso dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese d'Egitto fece in seguito perire quelli che non credettero egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro la fernicazione ai vizi contro natura sono date come esempio portando la pena di un fuoco eterno cosa voglio dire con questo Giuda in questa lettera fa riferimento a la liberazione del popolo di Israele dall'Egitto e la distruzione del Sodoma e Gomorra come qualcosa che Curios qualcosa che Yeshua ha fatto il soggetto dal verso 5 al verso 7 il soggetto è Yeshua il soggetto non è il Dio di Israele il soggetto non è Adonai il soggetto non è Dio il soggetto è il Signore Gesù Cristo e come per quello lo amo come concetto perché la Bibbia sta dicendo in questa lettera che il popolo di Israele è stato liberato da Yeshua ed è fantastico perché pur sapendo che Yeshua prende la sua incarnazione visibilità nella venuta attraverso la la concezione di Maria che fa tutti i processi di un essere umano fino alla croce perfettamente ma dal punto di vista di Dio dal punto di vista teologico dal punto di vista dottrinale la Bibbia non Stefano di nuovo ma la Bibbia secondo lo studio che stiamo facendo porta Yeshua al tempo della liberazione del popolo di Israele porta Yeshua al tempo ancora prima della distruzione di Sodoma e Gomorra e a questo punto porta Yeshua a essere quell'uomo che ha pranzato con Abramo che ha colloquiato con Abramo e il quale ha detto se ci fossero anche dieci persone giuste io salverò salverò cioè il protagonista di quella conversazione secondo quello che noi leggiamo nel libro nell'epistola di Giuda è Yeshua e Curios ed è mentre andiamo avanti guardiamo poi come Yeshua viene gli viene attribuito il termine di Altissimo Ips Tissos in Marco 5-7 in Atti 16-17 e sapete che cosa succede in questi due versi sicuramente non ve lo ricorderete ma ve lo vado a leggere io di continuo giorno e notte andava tra i sepolcri e super i monti urlando e percutendosi con delle pietre sta parlando di un indemoniato quando vide Gesù da lontano quando l'indemoniato vide Gesù da lontano corse e si prostrò davanti e a gran voce disse che c'è fra me e te Gesù figlio del Dio Altissimo io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi ok quindi c'è la manifestazione del mondo supernaturale del mondo sovrannaturale del mondo spirituale del mondo demoniaco che riconosce Yeshua come Ispistos ora sicuramente sia il demone che Yeshua non parlavano in greco ma probabilmente in ebraico ma chiunque riporta in questo caso Marco che riporta questo evento usa la parola Ispistos ora non so se vi ricordate a memoria cosa succede nel libro degli atti al capitolo 16 ma è la storia di nuovo del di Paolo e Sila che si trovano a Filippi e mentre percorrono le strade di Filippi al verso 17 c'è scritto parto dal 16 verso 16 mentre andavamo al luogo di preghiera incontramo una serva posseduta da uno spirito di divinazione facendoli dovina essa procurava molto guadagno ai suoi padroni Costei messesi a seguire Paolo e noi gridava questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza di nuovo come in Marco 5 c'è il mondo demoniaco che riconosce Yeshua come Ispistos come l'Altissimo e di nuovo il concetto è lo stesso l'utilizzo di questo di questa parola è lo stesso c'è un mondo spirituale c'è un mondo demoniaco non li chiamerei dei ma li chiamerei delle forze più forti di noi esseri umani sicuramente ma che loro stessi riconoscono che la potenza di Yeshua è più alta ricordatevi che significa altissimo è più alta è più potente è più forte di loro quindi come vedete il contesto passando dall'ebraico al greco dei settanta al greco del nuovo testamento l'intenzione è lo stesso l'utilizzo della parola non è più verso Dio ma verso Yeshua che è Dio ma viene utilizzato lo stesso termine viene utilizzato lo stesso titolo l'ultimo è Pantocrator che è un termine più raro è un termine che viene utilizzato nel Nuovo Testamento solo per solo dieci volte la prima volta è nel secondo Corinzi sei diciotto che appunto è la traduzione di onnipotente così come la troviamo in secondo Samuele 714 Esaia 43 6 ma è interessante vedere come Pantocrator quindi la parola onnipotente è menzionata ben nove volte in greco nel libro dell'Apocalisse ed è basato come vediamo in Apocalisse 1 8 è basato su questo verso che è Yeshua che dice io sono l'alfa e l'omega sono l'inizio e la fine che è tipica una frase del Dio del primo testamento del Dio di Israele quando Dio dirà io conosco l'inizio dalla fine e la fine dall'inizio è la stessa informazione che noi abbiamo con Yeshua che dice sono l'inizio e la fine sono l'alfa e l'omega è al verso 4 8 e così via se andate a leggervi questi versi appena avete tempo vedrete la grandezza di questo onnipotente di nuovo la parola onnipotente è rappresentato quanto crator è utilizzata di più nell'Apocalisse perché è il momento in cui ci viene detto da Giovanni che Dio stabilisce il suo regno che è il regno di Yeshua che Yeshua regna insieme alla sua sposa e quindi di nuovo c'è questo concetto di onnipotenza di invincibilità e quindi viene utilizzato per Yeshua incredibile viene utilizzato per Yeshua questa parola di onnipotente quindi Eshadai l'onnipotente utilizzato in ebraico trasferito poi in Pantocrator dai 70 viene attribuito per ben dieci volte a Yeshua come Pantocrator come onnipotente abbiamo poi altri versi che definiscono la sua divinità sicuramente molto più conosciuti dove si utilizza appunto questa espressione ego eimi che semplicemente significa in greco io sono vi ricordate quando abbiamo analizzato il nome proprio di Dio il tetagramma di Dio che è uno dei significati se non forse il significato principale è appunto io sono e Giovanni è diciamo il fautore di questa di questo termine e lo utilizza diverse volte ad esempio con la donna samaritana al pozzo in Giovanni 4 26 la donna gli disse io so che il Messia che chiamato Cristo deve venire quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa Gesù gli dice sono io ego eimi io sono il grande io sono quando Gesù usa ego eimi in realtà considerando il fatto che stiamo parlando di persone che non parlano greco ma che colloquiano in ebraico qui Gesù sta utilizzando il nome di Dio che non è utilizzabile ovviamente per noi esseri umani ma per lui lo è 8 58 il verso 58 al capitolo 8 di Giovanni Abramo vostro padre ha giuito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se n'era allegrato i giudei dissero tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo Gesù disse loro in verità in verità vi dico che prima che Abramo fosse nato io sono che grammaticalmente non ha nessun senso bisognerebbe utilizzare un'altra forma verbale e non è un errore in italiano anche in greco si utilizza ego eimi che di nuovo Gesù sta parlando con i giudei in che lingua secondo voi in ebraico e vi ricordo adesso appunto non l'ho menzionato il verso ma se avete la Bibbia aperta leggete il verso 59 allora essi presero delle pietre i giudei per tirargliere ma Gesù si nascose e uscì dal tempio perché lo volevano lapidare perché ha utilizzato il nome di Dio che non doveva utilizzare quella è la reazione Giovanni 10 28 le mie pecore ascoltano la mia voce io le conosco ed esse mi seguono io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano chi solo può dare la vita eterna quindi adesso stiamo uscendo dai titoli e dal nome di Dio ma delle azioni dalle frasi che Gesù utilizza che di nuovo anche se è una frase forte lo dico o Gesù è bipolare schizofrenico o è Dio sono due le cose perché non può dire determinate cose non può dire che lui può dare la vita eterna se non è Dio quindi questa frase è una frase importante nel verso capitolo capitolo successivo 11 25 Gesù disse io sono la resurrezione e la vita chi crede in me anche se muore vivrà di nuovo stesso concetto come fai a dire una cosa del genere o sei Dio o devi essere rinchiuso 14 6 il verso della scuola domenicale Gesù è la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me quindi di nuovo come è possibile dare questo tipo di messaggio se non si è Dio 14 10 mostraci il padre se avete visto me avete visto il padre di nuovo Colossesi 1 15 questi sono i versi principali soprattutto ve lo do anche dal punto di vista apologetico segnateveli quando qualcuno dice ma no come fai a credere che Gesù è Dio e molto spesso loro leggono o dicono di essere cristiani questo è il è il concetto e sono tutti i versi biblici l'insegnamento che abbiamo nella Bibbia Yeshua è l'immagine del Dio invisibile il primo genito di ogni creatura come fai a essere l'immagine del Dio invisibile vuol dire che c'è un Dio invisibile ma che viene reso visibile attraverso Yeshua e poi il libro di la lettera agli ebrei al capitolo 1 dice che Yeshua è lo splendore della gloria di Dio ed è l'impronta della sua essenza a noi uomini e donne viene detto che siamo a immagine e somiglianza di Dio che è qualcosa di simile di vicino che poi è un discorso di rappresentazione non che assomigliamo a Dio da punto di vista fisico o da punto di vista spirituale ma semplicemente perché Dio ha messo il suo spirito dentro di noi e noi rappresentiamo Dio sulla terra ogni essere umano ogni uomo ogni donna ogni bambino bambina ha questa immagine e somiglianza di Dio però Yeshua è l'impronta esatta della essenza di Dio che è esattamente una cosa completamente differente e voglio finire con questo concetto sono all'ultima slide sono dovuto andare veloce perché come avete visto c'è davvero tanto da dire però magari apriamo qualche minuto per le domande appena finisco questa slide se avete voglia tempo sentite cosa dice Dio a Mosè sono al capitolo 19 verso 3 Mosè salì verso Dio il Signore lo chiamò dal monte dicendo parla così alla casa di Giacobbe e annuncia questo ai figli di Israele voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me dunque se ubbidite davvero la mia voce osservate il mio patto sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare perché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti una nazione santa queste sono le parole che dirai ai figli di Israele cosa sta dicendo qua Dio Dio sta dicendo io vi ho scelti a questo punto io mi sono rivelato a voi affinché voi possiate andare in giro per le nazioni e portare il mio nome alle nazioni affinché voi possiate essere un canale di benedizione per le nazioni e le nazioni possono vedere attraverso di voi che Dio esiste questa è la scelta di Israele Israele è stata selezionata scelta per poter portare il nome di Dio il vero nome di Dio alle nazioni sicuramente ha fallito non ha fallito totalmente perché poi ovviamente Yeshua è venuto ad adempiere quello che Israele avrebbe dovuto fare ma prima di muoverci ben la persona di Yeshua se noi ci muoviamo al capitolo successivo Esodo 20 che è volgarmente chiamato i dieci comandamenti mi piace appunto spiegare che non sono comandamenti la parola comandamenti non viene utilizzato in ebraico viene utilizzata la parola Devarim che è parole sono le dieci parole non sono i dieci comandamenti sono le dieci parole e al verso 7 del capitolo 20 viene tradotto erroneamente e vi spiego perché è uno dei grandi errori a mio parere della traduzione di questo verso è non pronunciare il nome di Dio in vano in realtà la parola in ebraico non è pronunciare ma è nasha o sarà tisha come imperativo nell'imperativo forma grammaticale la prima lettera che è una nun che si legge n una n viene rimossa e viene aggiunta una t che sta identica la tet scusate tav che viene a significare che è un imperativo ok la forma imperativa ora non questo verbo non ha niente a che fare col proferire parola o col pronunciare il nome di Dio ma in realtà ha questo significato di portare di condurre di presentare e quindi la traduzione giusta dovrebbe essere non portare il nome di Dio in vano non condurre il nome di Dio in vano non presentare il nome di Dio in vano i profeti diranno le nazioni insultano insultano il mio nome a cagion vostra usando un termine antico per colpa vostra perché voi non vi state comportando secondo il nome che portate e che rappresentate quindi Dio sta dicendo io ho messo il mio nome su di voi vi ho dato la rivelazione del vero Dio non siete stati ingannati come gli egiziani che hanno così tante divinità e non non hanno neanche quella vera voi avete la vera divinità il Dio che ha creato il cielo e la terra non portate questo nome in vano Dio dirà io ho messo il mio nome su di voi e dirà poi anche nel libro del Deuteronomio io vi circonciderò il cuore io vi salverò ma non lo farò per voi lo farò per amore del mio nome e perché è importante questo perché veramente così come Dio ha messo il suo nome sul popolo di Israele e porta ancora il suo nome noi essendo stati innescati nell'Israele in Israele col popolo di Israele facendo parte di questo mistero chiamato Chiesa che è l'unione di Israele con i gentili il nome di Dio è stato messo anche su di noi e questo comandamento fa riferimento anche a noi a me e te non far sì che le persone che non sono credenti ancora non lo diventino per la maniera in cui tu porti il nome di Dio in giro che non rappresenti Dio e non rappresenti il suo nome perché questo è andare contro i suoi comandamenti perché questo è andare contro i suoi statuti e non è pronunciare per quanto sia sbagliato ovviamente peccato bestemmiare il nome di Dio ma non è quella l'interpretazione giusta non è quello che Dio ci sta chiedendo di fare ci sta chiedendo qualcosa di più difficile ancora che sono sicuro che per te anche usare l'espressione oh Dio mio non lo fai perché sai che è sbagliato o che non bestemmi lo so che lo fai ma Dio ci sta chiedendo un'altra cosa Dio ci sta chiedendo di essere degni di portare il suo nome nelle nazioni al tuo vicino di casa sul posto di lavoro al mercato quando vai a fare la spesa è questo quello che Dio ha chiesto Israele e che sta chiedendo a noi come chiesa successivamente come Yeshua Yeshua appunto un nome ebraico che vuol dire Adonai salva uno dei titoli che viene attribuito a Yeshua è Immanuel che vuol dire Dio con noi ed è questo appunto la missione di Yeshua di portare Dio con noi e in noi e poi il messaggio che abbiamo visto che abbiamo letto prima in Esodo capitolo 19 io vi ho scelti come un sacerdozio come un l'ho letto prima e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa registratelo segnatevelo questo Esodo 19 perché il sacerdoti e nazione santa riappare nel Nuovo Testamento in primo Pietro 2.9 ma voi siete una stirpe letta un sacerdozio regale una gente santa un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa voi include me e te che prima non eravate un popolo ma ora siete il popolo di Dio voi che non avevate ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia vedete come in realtà Pietro non sta inventando niente sta riprendendo Deuteronomio esodo 19 3.6 quello che viene detto a Israele essere una gente santa un sacerdozio regale viene trasformata e trasportata a è inclusa non esclusa attenzione non sta dicendo Israele non lo è più adesso lo siete voi sta dicendo vi sto includendo voi che non eravate un popolo adesso siete il mio popolo includendoci con il popolo di Dio che è stato scelto per prima che è il popolo di Israele e quando ci muoviamo sempre sull'epistola di Pietro al capitolo 4 verso 14 dice se siete insultati per il nome di Cristo beati voi perché lo spirito di gloria lo spirito di Dio riposa su di voi ma poi continua al verso 16 ma se uno soffre come cristiano non se ne vergogni anzi glorifichi Dio portando questo nome ed è di nuovo un altro aspetto importante del fatto che siamo stati chiamati a portare il nome di Cristo il nome di Yeshua il nome di Gesù il nome di Dio tutto quello che abbiamo visto in questi quattro diciamo insegnamenti ci porta a comprendere che Yeshua è il Dio di Israele Yeshua è l'immagine del Dio invisibile lo vediamo per i versi che leggiamo nella Bibbia ma lo vediamo anche nell'utilizzo dei nomi del nome e dei titoli utilizzati per il Dio di Israele in Genesi Esodo Levitico numeri Deuteronomio dalla versione dei 70 fino a arrivare al Nuovo Testamento e arriviamo alla conclusione che anche se oggi molti esseri umani e molte persone anche nel mondo cristiano hanno si sono distaccati da questo concetto siamo sicuri e certi che chi ha scritto la Bibbia ispirato dallo Spirito Santo sapeva e riconosceva e non c'era nessun dubbio in loro che Yeshua fosse il Dio di Israele per l'utilizzo che viene fatto dall'ebraico al greco dei titoli e del nome di Dio spero di essere stato chiaro in queste in queste lezioni e non so se abbiamo tempo mi sono dilungato un po' di più perché volevo finire il materiale però ditemi voi non vedo Vera si c'è Vera fatti vedere Vera Stefano posso chiederti una cosa quando l'Apostolo Paolo dice di portargli i rotoli noi pensiamo subito al Tanakh per lo meno agli scritti dell'attuale dell'Antico Testamento per lo meno quindi quelli erano scritti in greco se ho capito bene ma quando Gesù si recava nelle sinagoghe poi nel momento in cui si trovò a Nazareth e lesse quel famoso brano era scritto in aramaico o in greco? allora i testi nella sinagoga sono sempre in in ebraico ok sì sì perché l'aramaico era più una lingua non è un dialetto l'aramaico è una lingua e la lingua parlata quindi probabilmente anzi sicuramente Gesù parlava entrambi però al tempo dei romani l'aramaico era la lingua più parlata colloquiale però la lingua diciamo religiosa quindi l'ebreo quando entrava in sinagoga o quando pregava pregava sempre in ebraico citando ovviamente i versi della Tanakh ok grazie poi Paolo sicuramente parlava sicuramente greco ebraico aramaico e probabilmente anche latino per tutti gli studi che ha fatto però come fariseo sicuramente l'ebraico era di casa posso chiedere una domanda Stefano sono Giovanna prima accennato sul fatto del a parte la somiglianza di Dio mi puoi spiegare un po' questo concetto che magari dopo tanti anni di fede sappiamo che non è fisicamente ovviamente allora stavi spiegando un po' allora il contesto il contesto della immagine e somiglianza di Dio è molto più letterale di quello che pensiamo soprattutto per il contesto in cui il libro della Genesi viene scritto facciamo riferimento a un periodo storico dove la divinità veniva rappresentata con delle statue che venivano utilizzate non come adorazione non pensate al mondo cattolico e quindi l'adorazione della statua no si continua ad adorare la divinità invisibile ma quella divinità invisibile aveva scelto delle rappresentazioni che venivano fatte attraverso delle statue degli obelischi dei punti di ritrovo comunque qualcosa di fisico di reale in modo che l'essere umano potesse approcciarsi a quella statua a quell'obelisco a quel sistema di pietre a quell'altare per poter entrare in connessione in contatto con la divinità attraverso qualcosa di visibile ok ed è per questo che i patriarchi utilizzano gli altari tantissimo Dio appare e cosa fanno costruiscono un altare era nella loro cultura noi oggi non lo faremmo mai cioè se Dio appare se abbiamo una visione non è che ci mettiamo a costruire a mettere le pietre non lo facciamo perché non è nella nostra cultura anzi nella nostra cultura protestante è esattamente il contrario sarebbe idolatria sarebbe andare a portare idolatria in qualcosa del genere ma il discorso dell'altare è esattamente il contesto dell'immagine e somiglianza di Dio spiego meglio quando viene detto questo nella creazione Dio ci fa a sua immagine e somiglianza come rappresentanti come ambasciatori quindi noi portiamo avanti noi siamo la prova tangibile dell'esistenza di Dio in quello siamo a immagine e somiglianza di Dio non perché ci assomigliamo perché Dio ha due braccia due gambe due occhi non è per quello neanche tanto un aspetto spirituale perché Dio è spirito noi abbiamo la parte spirituale sì ma non è quella l'immagine e somiglianza perché noi non potremmo neanche avvicinarsi lontanamente a Dio ma il fatto che noi siamo stati creati Dio ha messo la sua immagine in noi perché anche quando noi ci guardiamo l'uno all'altro quando ci raccontiamo quello che Dio sta facendo stiamo portando gloria a Dio perché siamo a immagine e somiglianza sua e quindi ovunque andiamo siamo la prova tangibile che Dio esiste questo concetto viene ribadito da Yeshua quando i farisei e i sadducei lo vogliono accusare e vogliono provare che lui non paga le tasse o che i suoi discepoli non pagano le tasse gli viene fatta la domanda a Yeshua se i suoi discepoli o se lui paga le tasse e se è giusto pagare le tasse a Cesare e allora lui chiede la moneta gli chiede una moneta gli viene data la moneta e gli dice quale fige quale forma quale immagine c'è su questa moneta e gli viene detto Cesare e dice famosa frase date a Cesare quello che è di Cesare ma continua e dice date a Dio quello che appartiene a Dio quindi il soggetto è l'immagine quindi su quella su quella moneta c'è l'immagine di Cesare e quindi bisogna dare ciò che appartiene a Cesare a Cesare ma Gesù sta dicendo quale immagine avete voi e la risposta è l'immagine somiglianza di Dio e quindi in questo contesto Dio di Gesù appunto Gesù sta dicendo date le monete a Cesare ma date quello che aspetta Dio ovvero voi voi stessi completamente voi stessi perché voi siete a immagine somiglianza di Dio e questa immagine somiglianza di Dio deve ritornare a Dio così come le monete con l'effigie di Cesare deve tornare a Cesare grazie grazie molto molto esaustiva grazie sì Rosalba vai pure una signora mi ha detto dice ma Dio è donna ho detto no se pensiamo che Gesù era uomo allora dico Dio è uomo però l'amore di una donna una mamma quell'amore che ha ora una risposta è più non so la mia risposta come sta grazie grazie per questa domanda effettivamente sembra sembra strano però nel mondo accademico è molto spesso è una delle domande più ambite nel senso che molti fanno questi tipi di domande per diciamo anche spinti da da una teologia femminista che sta avanzando perché dobbiamo fare Dio uomo qualcosa contro il patriarcato la Bibbia è un libro maschilista quindi si cerca di trovare queste definizioni allora Dio viene rappresentato con tantissime con tantissime immagini una di questa appunto è anche l'immagine in Isaia mi sembra appunto che parla di questo amore di questa espressione femminile di Dio ma è ovviamente una simbologia un'allegoria una metafora Dio è spirito quindi Dio è assessuato nel senso che non ha bisogno di avere un sesso un gender un genere né maschile né femminile Yeshua viene manifestato come 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 uomo e a parer mio viene viene rappresentato come uomo non tanto dal punto di vista maschilista ma per un per una questione molto semplice molto semplice no è molto complicata però cerco di spiegarlo in maniera semplice Yeshua deve nascere attraverso un concepimento verginale si dice in italiano cioè nel senso che non deve essere coinvolto diciamo il seme il seme maschile c'è un fenomeno nella scienza che si chiama partenogenesis che include la possibilità per una donna di rimanere incinta senza avere rapporti sessuali con un uomo senza essere inseminata da un uomo e sono pochissimi i casi potete andarla a vedere su internet si chiama partenogenesis e la scienza prova che una donna che rimane incinta per una questione appunto scientifica non mi voglio dilungare su questo può rimanere incinta ma può portare alla luce solo una femmina è impossibile per una donna che rimane incinta secondo la scienza e la partenogenesis che possa avere un maschio proprio per ovvi motivi ci arriviamo tutti facilmente il discorso che invece Yeshua nonostante questa possibile situazione di partenogenesis però sappiamo che è stato lo spirito santo a mettere questo seme nel grembo di Maria o Miriam perché non la chiamiamo Maria ma in realtà il suo nome in ebraico sarebbe Miriam porta ancora più validità a quello che è successo e quindi questo discorso quindi per me il fatto che sia nato come come uomo come maschio ha più valore per quanto riguarda la sua divinità e la sua umanità che il resto aggiungerei a rigor di logica che sicuramente una donna al tempo dei romani non avrebbe potuto avere lo stesso impatto non avrebbe non si sarebbe potuta manifestare all'interno del popolo di Israele leggere nella sinagoga su Isaia 61 o essere convolto nella vita di Israele così come potrebbe essere coinvolto un uomo quindi non perché Dio ce l'avesse con le donne ma il contesto era quello e quindi è importante che il contesto sia utilizzato in quella maniera però però una cosa da dire per quelli che dicono che ad esempio non lo so la cristianità o che Yeshua o che la Bibbia sia qualcosa di maschilista spesso utilizzo il primo giorno il giorno della risurrezione Yeshua decide di rivelarsi a una donna e dà un'importanza alla donna Maria in maniera Maria Maddalena in maniera importantissima perché all'epoca la testimonianza di una donna non veniva presa in considerazione in corte o in sinagoga non venivano coinvolte e la scelta da punto di vista apologetica e da punto di vista di testimoni oculari che possono provare la realtà della risurrezione è proprio il fatto che molti studiosi oggi dicono se fosse finta la storia della risurrezione non avremmo un Gesù che si rivela una donna perché sarebbe chi inventa una storia la inventerebbe secondo il contesto sociale del tempo e avrebbe sicuramente scelto che Pietro o Giovanni il primo a incontrare il Gesù risorto invece non abbiamo questa abbiamo una donna che non avrebbe alcun senso ma ha senso perché la storia è vera questa è l'argomentazione grazie grazie